Salvatore Caiazzo, Presidente della terza Commissione Consigliare Permanente. Consigliere, lei si occupa delle associazioni, hai in mente di rinnovare l'albo delle associazioni? Come mai? È nata questa idea in occasione delle festività natalizie che abbiamo avuto la possibilità di una collaborazione enorme da parte delle associazioni esistenti sul territorio. Quest'idea è partita insieme all'assessore Trincone e all'assessore Fumo in quanto io in qualità di Presidente della terza Commissione Consigliare Permanente nelle attribuzioni ho le stesse attribuzioni che hanno gli stessi assessori. Ora qual è il problema? È coinvolgere quanto più le associazioni perché sono una risorsa eccezionale per il nostro territorio. abbiamo un elenco, un registro delle associazioni che è fermo, diciamo, non aggiornato dal 2004 circa. Quindi adesso le associazioni dovranno rifare la domanda per un aggiornamento effettivo per vedere quelle che sono ancora in attività e quelle invece che hanno smesso la loro attività? Certamente perché adesso faremo in modo, stiamo costruendo questo progetto, metteremo un manifesto, lo metteremo sul sito del Comune, una richiesta di aggiornamento delle associazioni accreditate al nostro Comune. tutte le associazioni dovranno produrre una regolare domanda, presentare lo statuto, i fini, gli scopi e una volta stilato una lista noi andiamo poi a prendere le loro tipologie, i loro interessi e possiamo fare un discorso comune di collaborazione per riuscire a portare sul nostro territorio una ventata di novità, una ventata di gioia, una ventata di cultura. Quindi sono le associazioni che voi coinvolgete ma saranno anche le associazioni che potranno proporre al Comune delle iniziative? Le associazioni devono proporre al Comune dei progetti, dovranno invogliarci a creare dei presupposti tali che questo territorio possa vivere di tante comunità associative che concorrono tutte a dare un senso a quella che è la nostra azione politica. Noi ce la stiamo mettendo tutta, siamo degli ottimisti, vogliamo riuscire a dare a questa città una normalità e un percorso di cultura, di turismo su tutte quelle cose che ci stiamo dicendo che si trasformino in realtà concrete e non chiacchiere. Grazie a tutti.